Cosa ci aspetterà nei tre starter deck di Lorcana? Quale sarà il loro contenuto e converrà acquistarli? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il pre-release di Lorcana è finalmente giunto e con esso anche i primi articoli sono arrivati sugli scaffali delle diverse fumetterie, pronti per essere utilizzati dai numerosi curiosi desiderosi di provare il gioco. Personalmente tra i diversi articoli disponibili tre hanno attratto maggiormente la mia attenzione, ovvero gli starter deck, che come per ogni TCG che si rispetti rappresenteranno anche per Lorcana il primo punto di contatto per imparare le semplici regole che muovono il GCC targato Disney. E sarà proprio in questo video che ne scopriremo il contenuto, analizzando infine anche quale dei tre sarà il più consigliato per chi vuole intraprendere un percorso competitivo in questo magnifico gioco di carte. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme cosa ci attenderà all'interno dei tre starter deck di Lorcana. Andiamo a dargli un'occhiata. Le tre confezioni si presenteranno tutte con finitura foil e riporteranno i protagonisti dei rispettivi starter sulla parte frontale, la lista dei deck sul lato sinistro, gli inchiostri di riferimento che potrete trovare all'interno delle confezioni su quello destro, una breve descrizione dei mazzi con la strategia che seguiranno, la conta esatta di tutti i segnalini contenuti all'interno della scatola con le tipiche informazioni legali del caso riportate sul dorso e le info di produzione descritte nella parte bassa. Una volta aperti gli articoli avrete a vostra disposizione un deck composto da esattamente 60 carte che potrete utilizzare per iniziare il vostro viaggio come illuminari nel meraviglioso mondo delle fiabe Disney. Sarà da notare che per ogni mazzo ci saranno due carte con finitura foil garantite che per ogni starter saranno Moana e Topolino Stregone per l'Ember Amethyst, Crudelia Demon ed Aladino per il duetto Emerald Ruby e Simba con Aurora per il binomio Steel Sapphire. Oltre all'insieme di carte che vi proietteranno tra le dinamiche di questo TCG saranno presenti anche un tappetino da gioco di cartone stampato fronte retro che si sposerà alla perfezione sia per i giocatori destrorsi che mancini, 11 segnalini danno, un tracker per tenere conto dei propri punti lore, un regolamento di gioco ed una bustina di espansione che già dai primi momenti della vostra avventura vi potrà tornare utile per potenziare il deck. Sì Arconte ma sono tre e io ne voglio uno solo. Quale mi converrebbe acquistare? Le scelte potrebbero essere due. La prima più d'affezione potrà far vertere la decisione verso determinati personaggi che vi hanno accompagnato durante l'infanzia e lì spetterà voi. Mentre se avrete intenzione di intraprendere una carriera competitiva di sicuro lo starter di Vaiana e Topolino non potrà che fare al caso vostro dato che entrambi gli inchiostri in esso contenuti possiederanno carte molto importanti a livello di meta come ad esempio l'azione, canzone, friends of the other side. Sì ma quanti ne dovrò comprare Arconte? Il mio consiglio è quello di prenderne almeno due per poi recuperare gli elementi singoli atti a completare i playset come nel caso di Ade, Vaiana e all'occorrenza anche lo stesso Topolino. Ma la scelta finale ovviamente spetterà a voi quindi ponderate per bene la decisione e intraprendete nel migliore dei modi questo incredibile viaggio. Gli starter deck di Lorcana saranno venduti ad un prezzo indicativo di 20 euro e al loro interno si potrà trovare oltre al mazzo pronto all'uso tutto il necessario per giocare come dei token d'anno, un playmat di cartone, un regolamento veloce di gioco ed un booster pack che potrà oltre che a potenziare lo stesso deck arricchire anche la vostra raccolta personale. Rispondendo infine all'ultima domanda posta ad inizio video, conviene acquistarli? Procediamo con un paio di calcoli. Solo il booster pack avrà un prezzo che varierà dai 7 agli 8 euro e alcune carte incluse negli starter avranno un valore discreto quindi la risposta è sì, assolutamente sì, dato che non avranno un prezzo chissà quanto superiore rispetto ad altri articoli simili provenienti da DCG concorrenti. Prima di concludere inoltre volevo ringraziare Fantasia Store per aver messo a disposizione ogni articolo trattato in questo video ed a proposito di ciò in descrizione vi lascerò i link dove potrete acquistarli sia singoli che attraverso un bundle. Selezionate con cura quindi il vostro starter ed iniziate l'avventura in l'orcana accumulando già da subito i punti lore necessari per vincere le vostre prime partite. E voi quale dei tre sceglierete? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.